Ben trovati, buongiorno telespettatori e benvenuti in questa diretta delle 13 che precede appunto il nostro telegiornale di Telequattro delle 13 e 20, diversi temi da analizzare, sentiremo ovviamente, torneremo sulla situazione di questo rapper che ha appunto girato quel video nel cimitero di Aurisina e ora rischia 8 mesi. Ora sentiremo anche poi il punto della situazione su Muggia per quanto riguarda le disposizioni che il sindaco Polidori darà sulla questione della governabilità dei nostri amici a quattro zampe, dei cani, delle dedizioni canine, dei luoghi a loro dedicati, faremo il punto anche sul progetto Fortis della collaborazione interregionale Italia-Slovenia per quanto riguarda l'universo INCE. Ma ora invece siamo collegati telefonicamente con Marcellino Salvador Osmer Arpa FWG che saluto e ringrazio per il collegamento. Buongiorno. Buongiorno a voi, ben trovati. Allora siccità e maltempo, il punto della situazione. Fra poco scorrerà nelle grafiche anche il nostro titolo. Dottor Salvador, stiamo vivendo un'estate che a tanti ricorda quella ormai lontana del 2003 dove ci fu il picco di caldo che durò davvero moltissimi mesi e poi per esempio a Trieste stamattina presto ha piovuto, adesso l'aria si è un po' rinfrescata. Però insomma cosa ci dobbiamo aspettare in questo periodo? Voi che fenomeni state analizzando. Cosa sta succedendo nella nostra regione ma in realtà in tutta Italia? Allora in prima analisi diciamo sì che questa stagione, tardo primaverile e inizio d'estate ricalca abbastanza fedelmente quanto è stato nel 2003. Siamo decisamente in linea con quell'estate lì eccezionalmente calda da cui abbiamo già avuto più di 30 giorni oltre i 30 gradi in pianura che sono dati senz'altro fuori dalla norma che ovviamente pensavamo nel 2003 fosse un evento eccezionale ma a distanza di 20 anni adesso si sta ripresentando in maniera sempre più frequente e diciamo abbastanza marcata. Quindi il cambiamento del clima è in atto. Per quanto riguarda la situazione contingente oggi è una giornata un po' particolare perché vedremo l'arrivo di un fronte freddo dal nord Europa nel pomeriggio sulla regione il che causerà dei temporali abbastanza diffusi e probabilmente anche nel tardo pomeriggio dei venti forti che arriveranno appunto da oltralpe che potrebbero avere anche raffiche anche di 100 all'ora sulle zone di costa. Quindi attenzione nel pomeriggio a chi ovviamente sta all'aperto o al mare diciamo è una situazione dopo le 4 da tenere sott'occhio. Questo porterà ovviamente un raffrescamento per cui nei prossimi giorni si starà bene, le temperature e l'umidità saranno più basse. È chiaro che le temperature comunque rimarranno prettamente estive in linea con i valori normali, quindi massimo intorno ai 30 gradi in pianura sui 28 lungo la costa, cose normali, non sotto la norma, con atmosfera però più secca e questo varrà almeno per 3 o 4 giorni. Quindi da venerdì fino a lunedì una situazione più gradevole del tempo anche se è vero che stamattina appunto la Bora in particolare a Trieste e qualche goccia di pioggia aveva portato già a una diminuzione della temperatura ma non dell'umidità. Qui ci sarà uno stravolgimento della massa d'aria nel pomeriggio che cambierà radicalmente la situazione. Una vera e propria allerta meteo quindi per quanto riguarda... È in corso un allerta meteo che riguarderà il pomeriggio sera per quanto riguarda le zone di pianura e costa rispetto alla possibilità di raffiche di vento emanato dalla protezione civile regionale. Per quanto riguarda invece poi il proseguo della prossima settimana ci sarà un ritorno dell'anticiclone probabilmente del Nord Africa gradualmente, andremo su con le temperature per portarci di nuovo grossomodo intorno a metà mese, intorno al 15 a valori di nuovo importanti sopra la norma e quindi di avvicinarsi di nuovo ai 35-36 gradi e forse anche di più più avanti, anche se presto per fare queste conclusioni, però è probabile che si ripresenti un caldo importante appunto da metà mese dopo però questa tregua importante di 4-5 giorni che comincerà praticamente da oggi. Vede, dottor Salvador, delle similitudini particolari. Io prima ho citato l'estate del 2003 ma insomma lei vede similitudini particolari, una tendenza di questo gran caldo che continuerà anche nei prossimi anni, dobbiamo abituarci a queste estati così affose, con aria pesante, si può prevedere? Allora, diciamo esola in parte dai miei compiti che sono quelli di previsore meteo e quindi di stare sul contingente o comunque su previsioni a breve termine, queste sono previsioni climatologiche di cui però in parte l'ARPA FWG si occupa. Possiamo dire che comunque il trend è assodato ed è quello di un incremento delle temperature che si avrà comunque negli anni e quindi la tendenza è al riscaldamento. D'altronde vediamo che di anno in anno la probabilità di avere un dato di caldo lunghe, durature importanti, aumenta e lo constatiamo anche nei dati. Una volta arrivare a 30 gradi era piuttosto difficile, avevamo poche giornate oltre i 30 gradi prima del primo luglio, adesso sta diventando la consuetudine, tanto per dire a giugno in pianura abbiamo avuto 25 giorni oltre i 30 gradi, quindi questo la dice lunga della situazione che si sta ripresentando con una frequenza sempre più elevata rispetto al passato. Ovviamente i consigli che danno soprattutto i medici chiaramente sono sempre gli stessi, non bisogna uscire nelle ore calde. Ci sono stati purtroppo frequenti episodi in tutta Italia di gente che si è improvvisamente sentita male proprio per il caldo. È effettivamente anche da questo punto di vista una situazione anomala? Beh, ovviamente quando il caldo supera i 35 gradi non serve aggiungere altro, è un caldo intenso, questa situazione però adesso non si verificherà nel contingente, lo vivremo di nuovo probabilmente da metà mese, quando arriverà probabilmente un'altra data di caldo importante, giornate come le abbiamo vissute nei giorni scorsi con valori che sono arrivati intorno ai 37 gradi, questa è una cosa probabile. Da dire invece rispetto alle piogge che salvo temporali di oggi pomeriggio sera, probabilmente i prossimi 10 giorni è molto probabile che non vedranno piogge significative, quindi che la siccità sostanzialmente perduri. E questo cosa comporta dal punto di vista anche appunto della tenuta proprio fisica del nostro territorio, quando non piove per troppo tempo tutti ne risentiamo, si ricorda anche nell'ambito del suo lavoro di casi simili negli anni? L'estate del 2003 è stata simile, decisamente molto calda e con scarsa pioggia, per cui c'era come adesso vediamo l'erba già secca ai primi di luglio, cosa abbastanza anomala per il Friuli Venezia Giulia che invece di solito è la regione più piovosa nei mesi estivi in Italia, ma anche noi pur avendo avuto diversi temporali come anche li avremo oggi, ma li abbiamo avuti anche i giorni scorsi e in montagna ricordiamo che i quantitativi di pioggia sono stati anche decisamente elevati in certe zone, specie delle prealpicarniche dove si è arrivati anche a 300 mm, valori che non sono paragonabili agli altri d'Italia. Nonostante ciò anche noi in certe fasi, in certi momenti, specialmente sulla bassa pianura soffriamo ovviamente della siccità, questo è un fatto che constatiamo anche noi perché tutto sommato l'anticiclone nordafricano si ripresenta sempre più frequentemente anche verso di noi con le conseguenti temperature elevate e anche ovviamente l'inibizione della possibilità di temporali che quando ci sono comunque sono abbastanza estemporanei e non con bei fronti diffusi come succedeva anni fa, che pioveva magari per tre ore un pomeriggio con i classici fronti freddi che adesso vengono invece sostituiti da elementi molto più impulsivi, magari anche più forti ma molto più impulsivi. Ecco infatti, le rubo giusto ancora un paio di minuti, poi la lascio, so che è pieno di lavoro dottor Salvador. In genere noi ci aspettiamo i classici temporali estivi con anche grandinate, no? Quindi temporali di una certa intensità. In Veneto recentemente in questi giorni sono cadute, è caduta grandine, chicchi di grandine grossa come noci. Ecco, è una situazione più o meno standard nei temporali estivi che sia effettivamente così? Potremmo aspettarci anche noi fenomeni magari brevi nel tempo ma più violenti da questo punto di vista? Beh, li abbiamo già avuti sostanzialmente l'altro ieri con gran parte della pianura udinese interessata da temporali piuttosto forti a nord di Udine e anche a sud di Udine nella zona di Palmanova con piogge dell'ordine dei 50-60 mm all'ora e anche grandine quindi non è una novità e l'abbiamo appena vissuta come c'era ovviamente anche nel passato. È dei piccoli disturbi atmosferici che fanno innescare i temporali provocano poi questi temporali estivi che sono molto improvvisi, forti e nella natura del temporale di essere forte e ovviamente anche poi portare alle grandinate che è un elemento abbastanza tipico anche questo del nostro territorio in estate. Queste cose però appunto diventano sempre più impulsive e anche sempre meno legate a fronti ben decisi e marcati ed è anche difficile prevedere. Mi informano qui in diretta che sono stati allertati gli stabilimenti balneari della costa proprio per questo pomeriggio anche insomma in merito a quello che dicevamo noi i sindaci delle zone sono allertati. Se c'è un'allerta anche per quanto riguarda i bagnanti e la balneazione effettivamente dovremmo aspettarci un buon impatto da questo pomeriggio ma mi sto riferendo in questo caso alla costa. Sì, c'è un'allerta emanata dalla protezione civile rispetto alla possibilità di raffiche di vento forte su pianura e costa per questo pomeriggio che ricalca appunto quanto avete già detto e quindi c'è un'attenzione rispetto a questa situazione ovviamente in particolare sulle zone balneari dove c'è tanta gente ovviamente. Ok, grazie dottor Salvador, Marcellino Salvador, Osmer, Arpa, FWG, grazie per il tempo concesso e un buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie dottor Salvador, arrivederci, buona giornata. Questo è il punto della situazione con il dottor Marcellino Salvador proprio per quanto riguarda ormai l'allerta a meteo diramata per quest'oggi. Andiamo a vedere la situazione, infatti rimaniamo sul tema generale per quanto riguarda il tempo che ci aspetta in queste ore. Un marcato fronte freddo a nord valicherà le Alpi oggi pomeriggio determinando instabilità e l'arrivo piuttosto improvviso di corrente fresche settentrionali che scontrandosi con il caldo ovviamente potrà generare disagi dal punto di vista meteorologico. Eccole qui, le previsioni oggi dalle 12. Vedete la fascia oraria da cui parte questa allerta a meteo e come potete vedere è interessata tutta la regione da questo sconvolgimento climatico che porterà sicuramente del fresco, un abbassamento marcato delle temperature, però nonostante questo il caldo tornerà a abbracciarci molto presto. Il punto è evitare i danni e quindi tutti quei fenomeni che con il vento forte e la pioggia e chissà anche la grandine magari possono fare. Quindi oggi dalle 12 aggiornamento dal pomeriggio, probabili rovescio temporali, prima in montagna poi anche sulle altre zone, nel tardo pomeriggio probabile vento forte da nord, sia su pianura che costa. Le temperature minime in questo momento sono registrate tra i 19 e i 22 gradi e le massime tra i 26 e i 31 gradi per quanto riguarda la costa, leggermente più alte le massime invece per quanto riguarda la pianura, ma questi dati potrebbero essere destinati a mutare proprio nelle prossime ore, cioè abbassarsi ulteriormente. Vediamo già invece il tempo per domani, la situazione di un bel tempo con cielo in genere sereno sulla costa Borino o Bora moderata che tenderà a girare di brezza sulle zone occidentali. Ecco come vedete le temperature minime si abbassano fino a 16 gradi, le massime anche domani dovrebbero oscillare tra i 28 e i 30 gradi ma con un clima più secco, più asciutto, decisamente meno umido. Questa è la situazione in cui potrà versare tutta la nostra regione. Nelle prossime ore abbiamo sentito le parole di Marcellino Salvador, tecnico specializzato dell'OSMER ARPA FWG che ha spiegato la situazione anche in riferimento all'emergenza, siccità che si sta scatenando in questi giorni, in queste settimane. Fra poco vedremo il nostro telegiornale di Telequattro dove riprenderemo il punto della situazione su vari temi, appunto su questo rapper immortalatosi con un suo videoclip al cimitero di Aurisina. Sono state denunciate parole e frasi ingiuriose ma lo vedremo meglio nel servizio di Marco Stabile fra pochissimo, il rapper rischia una condanna a 8 mesi. E poi vedremo la situazione che riguarda Muggia, una battaglia che continua a esserci sul fronte delle deiezioni canine con il sindaco Polidori intento a agire prontamente e riservare anche delle vere e proprie aree ai cani e agli amici a quattro zampe. Parleremo del progetto Fortis che riguarda la sinergia Italia-Slovenia, un progetto interregionale sul trasporto pubblico, cioè riuscire a collegare trasfrontalmente la Slovenia e l'Italia con il sistema di trasporto pubblico e poi ovviamente tutte le varie collaborazioni che nella galassia di Ince portano nell'interesse proprio nostro, del nostro paese, della nostra regione ma soprattutto di Trieste. Noi ci fermiamo a alcuni minuti di pausa pubblicitaria e poi torniamo con i servizi del telegiornale di Telequattro, le 13.20. A fra poco. Buongiorno, buon pubblico, ben trovati telespettatori al telegiornale di Telequattro. Stamattina nella sala tessitori di Piazza Oberdan si è tenuta la conferenza finale del progetto Fortis nell'ambito della collaborazione interregionale Italia-Slovenia. I temi principali, lo sviluppo del trasporto pubblico tra Italia e Slovenia e la collaborazione tra i due paesi in materia di motorizzazione civile e il servizio. Si chiama progetto Fortis, finanziato dal programma interregionale Italia-Slovenia. A Trieste si è tenuta la conferenza finale. L'evento, organizzato dal segretariato esecutivo dell'iniziativa centro-europea, si è focalizzato sul confronto sui due principali temi affrontati dal progetto. Lo sviluppo del trasporto pubblico transfrontaliero e la collaborazione in materia di motorizzazione civile. L'attività svolta nel corso del progetto hanno portato e stanno portando alla prossima stipola di un accordo di cooperazione tra la Repubblica di Slovenia e la regione Friuli-Venezia-Giulia per attivare un sistema integrato di trasporto pubblico trasfrontaliero su gomma, una serie di servizi di trasporto pubblico che contiamo di poter attivare nei mesi a venire, non soltanto estendendo le linee attuali alla prima fermata utile al di là dei confine, ma raggiungendo anche i centri di scambio modali che si trovano sui due lati del confine e quindi consentendo alle persone di raggiungere le principali località e da qui poi spostarsi utilizzando ulteriori nuovi servizi di trasporto pubblico. Sul versante invece della motorizzazione civile il progetto Fortis è un po' un unicum, si si è concentrati su un'azione pilota relativa al controllo dei mezzi pesanti sui confini che ha portato a condividere procedure, modalità e problematiche che i vari enti coinvolti in questa tipologia di controlli sono quotidianamente interessati ad affrontare e che grazie al progetto Fortis troveranno una forma stabile di collaborazione e di confronto che porterà aspettabilmente a semplificare anche le procedure in materia di motorizzazione civile negli rispettivi due paesi. Questo nel dettaglio il progetto Fortis dalla conferenza finale avvenuta appunto in sala tessitori quest'oggi in piazza Oberdan a Trieste. Il curioso caso di due rapper che hanno girato il loro videoclip musicale ma al cimitero di Aurisina. Ovviamente questo ha suscitato polemiche scontri e i rapper rischiano anche grosso dal punto di vista della legge. Allora vediamo il servizio di Marco Stabile sui due rapper e dopo arriverà il commento invece del sindaco di Aurisina Igor Gavrovez. Vediamo prima il servizio. Nessun messaggio di scuse via social ma pur una presa in giro di quanti hanno commentato con sdegno il videoclip rap pieno zeppo di offesa alle donne, parolacce e gesti ingiuriosi girato nel cimitero della guerra austro-ungarico di Aurisina dove riposano i resti di 1934 soldati. Paolo Zamaro in arte Sengs, leader del duo rap, ha invece preso in giro su Facebook i post di condanna del gesto eppure la posizione del sindaco che ha allertato i carabinieri di Aurisina. I militari hanno già identificato il 23enne triestino proprio attraverso i social e sono pronti ad agire sentita la procura della Repubblica. Zamaro e il suo soci in arte rischiano la stessa pena a cui è stato condannato il rapper udinese Justin Obusu che ballò anche qui in un videoclip sui gradoni del sacrario di Redi Puglia. L'ipotesi di reato corrisponde all'articolo 408 del codice penale, vilipendio alla memoria dei defunti. Tra l'altro, ma questa è una notazione che potrebbero fare tutti, se il monumento Isontino potrebbe magari essere confuso con altro, ovviamente da personaggi con poca vista e scarsa conoscenza storica, è praticamente impossibile dirlo per il cimitero sul Carso dove anche un bimbo noterebbe le file di lapidi a forma di croce. Il rapper Friulano, insieme al collega Maria Antonio Piras di Latisana, fu condannato a otto mesi di carcere con la condizionale, a patto però di pagare 25 mila euro di danni morali. La sospensione condizionale della pena fu condizionata proprio a risarcimento della parte civile. Resta da capire però nel caso di Eurisina se le frasi, le parole ingiuriose inserite nel testo, possano costituire un ulteriore aggravante di pena in sede processuale. E allora sentiamo la reazione del sindaco di Eduino Aurisina, Igor Gabrovez, che al microfono di Marco Stabile ha commentato proprio questa situazione. Vediamo. Ne ho avuto tutto il pomeriggio solleciti di ogni tipo, telefonici via messaggio attraverso Facebook a intervenire. È chiaro che come amministrazione comunale, come sindaco mi sono mosso immediatamente, ho contattato la caserma dei carabinieri, i miei carabinieri di fiducia e di riferimento. Ho sentito anche un legale. Come amministrazione intendiamo fare tutti i passi necessari affinché ci sia la giusta punizione per questi ragazzini che io spero non si rendano conto di cosa hanno fatto. È un oltraggio, un luogo sacro perché è un cimitero, ma anche un oltraggio alla memoria di quanti hanno sofferto, sono caduti in una guerra che ha devastato l'Europa. Quindi ci sono delle cose che si possono fare e altre che sono imperdonabili. Questa è una di quelle. Io mi attendo che questi ragazzi prendano coscienza di quello che hanno fatto. Io vorrei vederli in quel cimitero a chiedere scusa, a far manutenzione, a dimostrare in prima persona che si stanno pentendo, si sono pentiti del fatto. Nel frattempo noi faremo tutti i passi necessari. Io credo che ci siano tutti gli elementi per procedere dal punto di vista penale, ma anche civile, perché un fatto come questo ha sicuramente leso anche l'immagine dei nostri luoghi. Questo è il commento del sindaco di origine Igor Gabrovec. Allora siamo collegati con la sala operativa della Polizia Locale. L'ispettore Gurtner con noi al telefono. Ispettore, buongiorno. Buongiorno a lei a tutti. Allora, come avete ben rimarcato nella precedente trasmissione, voglio far presente che dalle ore 15 fino a questa sera è nata un allarme meteo per probabilmente temporali e vento forte. Quindi l'invito a tutti è quello di chi è a casa, ovviamente, di porre in atto tutti quegli accorgimenti per far sì che non ci siano pericoli. Quindi chiudere finestre, assicurare eventualmente piante, collocarle all'interno delle abitazioni in maniera tale che non ci siano problematiche legate al vento e evitare eventualmente di trovarsi in situazioni di potenziale pericolo vicino a arbusti, alberi e via dicendo. Oggi è stata riaperta la via Navali, quindi anche la linea 15 e la 16 hanno ripreso il consueto tragitto, c'è un senso unico alternato regolato da semaforo come precedentemente era accaduto nei mesi scorsi. Hanno iniziato i lavori di asfaltatura lungo la via Archie e Biasoletto questa mattina e tempo permettendo continueranno i lavori di segnalitica notturna nelle medesime località dei giorni scorsi, quindi San Vito, Fabio Severo, Giulia, Corso Italia e via dicendo. Altre cose non avrei da riferire per oggi. Grazie rispettore capo Paolo Gurtone, rispettone buona giornata e un buon lavoro. Saluti a tutti. Grazie rispettore. Per arginare il problema delle deiezioni canine nel centro di Muggia il sindaco Paolo Polidori ha ipotizzato l'installazione di toilette vere e proprie per cani da posizionare nel centro storico, questo per ovviare appunto al problema citato, il servizio di Bernardo Gulotta. Bottiglietta d'acqua per pulire la pipì dei cani, scelta giusta o poco opportuna, la soluzione a Muggia potrebbe non essere né l'una né l'altra, bensì l'installazione in centro di toilette per cani. L'idea emerge direttamente dal sindaco Paolo Polidori che stamane a Sveglia Trieste, al commentare le scelte di regolamento che contraddistinguono i diversi municipi, ha ipotizzato degli angoli dedicati ai cani in modo da contenere la diffusione delle chiazze d'urina nel resto della cittadina. Stiamo studiando un sistema per mettere delle toilette proprio per cani, dobbiamo vedere delle aziende che sono specializzate in questo, lo si utilizza soprattutto in città fuori dall'Italia, all'estero, perché in Italia non mi risulta di aver notizia che ci siano questi sistemi, ma se funzionano penso che sarebbe opportuno prenderli seriamente in considerazione. Il padrone del cane deve fare il padrone, minimamente almeno deve educare il cane a non farlo passare attraverso tutti gli angoli e fermarsi dove il cane vuole, ma un minimo di determinazione potrebbe far sì che appunto il padrone conduca il cane lì dove deve fare i propri bisogni. C'è poi l'annoso problema che si concentra su altri aspetti fisiologici, quello delle deiezioni canine. A Muggia, secondo il sindaco, la strada da perseguire è quella del controllo con sanzioni salate. Ormai saranno tre mesi che abbiamo fatto, quindi abbiamo dato anche la notizia, guardate che chi permette questo tipo di comportamento ai propri cani, perché ovviamente la colpa è sempre del padrone, rischia di beccarsi delle multe salate che tra l'altro inaspirò nel prossimo regolamento di Polizia Urbana. A quanto? Beh, adesso questi 600 euro sono sei verbali, quindi verbali da 100 euro. Io un verbale da 100 euro lo aumenterò a 300-500. Cioè da 100-500? Sì. Andiamo a vedere la situazione meteo attraverso il sito dell'Osmer FWG. Già abbiamo parlato proprio con il tecnico nella diretta che precede il nostro telegiornale. Sulla regione affluiranno correnti secche settentronali che determineranno tempo stabile per vari giorni con temperature più fresche ma in linea con la media stagionale. In realtà poi prevista l'allerta meteo dalle 15 di oggi, giovedì 7 luglio, dal pomeriggio probabili rovescio temporali, prima in montagna, poi anche sulle altre zone. Nel tardo pomeriggio probabile vento forte da nord su pianure costa. Si attende un abbassamento delle temperature, ovviamente molto più fresco ma attenzione, come ha detto anche Paolo Gurtner della Polizia Locale poco fa, di assicurare eventuali oggetti fuori dalla casa, finestre e quant'altro, proprio per evitare brutte sorprese visto la turbolenza che è stata prevista. Il tempo per domani, venerdì 8 luglio, cielo sereno, vento moderato dal nord-est che nel pomeriggio girerà di brezza sulla costa, sui monti qualche nuvola. Nel pomeriggio atmosfera più secca rispetto ai giorni precedenti, logicamente cala quindi l'umidità con le temperature minime che si abbassano fino ai 16 gradi. Il tempo anche per sabato 9 luglio, dopo domani cielo sereno con venti di brezza, temperature leggero calo, ma in linea con la media stagionale dal pomeriggio cielo variabile sui monti con le temperature minime che possono raggiungere i 20 gradi, le massime fino a 28, quindi un abbassamento sensibile delle temperature di fatto. È tutto dal telegiornale di Tele4 di questo pomeriggio, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con le notizie alle 19.30.